ragazzi ciao 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 beh noi intanto come band ci chiamiamo i basabello clinique la clinica del basabello ecco però prima dobbiamo chiarire una cosa che cos'è un basabello e questo lo devi spiegare te lo spiego io allora in italia diciamo che ora si può consumare della marihuana legale un basabello è anche avassano del grappa basabello è un piccolo spinellino di ganja legale è un inno alla legalità inno alla legalità come si dice canna da voi legale però legale perché si chiama basabello solo quella legale no veramente no no sul serio producete chicche che per fortuna sfozzano nella pseudo legalità sì 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 stavo parlando prima passando del grappa offre dell'ottima grappa però dell'ottima musica ok perché ci sono anche un paio di negozi di dischi interessanti mi pare lì non ricordo il nome il pick up sicuramente dischi ponte esatto quello vicino al ponte al ponte dischi ponte ma parlando di voi volete presentarmi un attimo anche i radio ascoltatori che non hanno potuto partecipare al concerto dove devo guardare allora la telecamera c'è di fronte però guarda guarda i tuoi fans guarda chi vuoi ciao io sono luca e vengo da bassano del grappa in provincia di vicenza in veneto e dico la mia nome anagrafico tanto partiamo io mi mi chiamo nicola andrea leonardo io sono tommy 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 ciao ragazzi ciao a tutti ciao come come è stato concerto per voi anzi quando è stato intanto l'ultima volta che vi siete esibiti sul palco e right now i vostri feelings come è stata la partecipazione su un palco palco molte volte è stata a ravenna palco palco dicembre 2019 dicembre 2019 al passatelli brunson saluto agli amici ciao bello e niente così a ravenna una città molto bella cioè la tomba di dante incredibile e niente così ok benissimo quindi autotoni bassano il grappa vicino vicenza per il pubblico internazionale allora parliamo un po' del vostro progetto luca il progetto che è un po la simbiosi della vostra ricerca musicale ma anche della vostra amicizia appunto essendo legati anche da una terra in comune quindi qual è la vostra storia musicale da che formazioni provenite quali progetti vi hanno fatto poi conseguire il vostro sviluppo a livello di band beh allora non ti dico all'inizio proprio io ho iniziato da solo su palchi di quattro bancali con persone che ti urlavano dietro cose molto underground delle gemmi pop dove la gente faceva graffiti cose che adesso penso ci siano in minore intensità io quando avevo iniziato era molto forte questa cosa e poi dopo ho continuato chiaramente ho conosciuto mio fratello qui Nicola e abbiamo iniziato un po' a lavorare dei pezzi e poi sono andati abbastanza bene ho fatto un piccolo tour poi è finito il tour è iniziato il covid abbiamo continuato a lavorare i pezzi nuovi ho fatto uscire eh come me la siete passata durante la pandemia avete continuato a incidere in realtà bene io benissimo sei brutto da dire però bene perché non ho mai non ho avuto la sfortuna di entrare in contatto con positivi cose non sono mai stato chiuso in casa perché esco per lavorare e ho sempre fatto la musica quindi nella sfortuna sono stato fortunato in realtà io non mi posso lamentare è uscito eh l'anno scorso se non erro il 2020 il vostro album senza eh senti senza elettricità non trovo l'interruttore no 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 è uscito a quando è uscito è uscito quest'anno ad aprire sì 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 ok quest'anno ad aprire sì 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 è uscito per la già da mesi etichetta discografica di Dargen D'Amico etichetta di Milano che collabora anche con Dash Nazari e con Edipo che è l'opseudonimo di Fausto Lama piacerebbe raccontare un po' di questo lavoro intanto quali sono stati i primi passi verso il vostro incontro con l'etichetta e qual è un po' il background dietro questa impresa? Beh in realtà noi abbiamo conosciuto i ragazzi di già da mesi per un contatto intermediario che si è interessato alla nostra musica che è il nostro booking manager di adesso Gerry Parisi un saluto a Gerry che conosce bene Dargen e Fra e quindi gli ha fatto sentire il nostro progetto gli è piaciuto e collaboriamo da tre anni quindi gli ultimi due P sono usciti con loro e bella in realtà noi abbiamo sempre lavorato ai pezzi da qua quindi non è cambiato tanto il modo in cui abbiamo lavorato i pezzi non siamo mai andati a Milano a fare come fanno sessione di studio abbiamo sempre fatto qua perché siamo più dopo cambiano comodi e confidenti con lo studio casalingo e questa è una cosa che siamo un po' affezionati anche l'etichetta stessa mi ha lasciato totale carta bianca per adesso almeno sì poi non c'è quell'idea il mixaggio ce lo fanno loro cioè noi registriamo tutto facciamo le canzoni poi passiamo tutti i suoni che abbiamo a dei professionisti che ma se non vi piace quel mixaggio gli diciamo che non ci piace e loro lo cambiano è perché lui è una faida è un artigiano è una faida questa anche con tutti i fonici del mondo esatto vedere dopo la tua post produzione vedere qualcuno che ci rimane già sopra a livello artistico penso sia ma non cambiano niente è che sono sempre un po' hanno le loro idee bisogna un po' capirsi non è facile parliamo spesso di etichette nel quotidiano ma anche qui su Radio Sherwood sia per quanto riguarda quelle musicali a cui missione appunto è quella sarebbe quella di capire l'artista capire la sua musica promuovere il suo talento e in qualche modo cercare di tutelarlo anche nei soldi che fai con la musica ma anche poi nel concetto di arte stessa per appunto metterlo in condizioni di dare meglio di sé ma anche di etichette che soffocano a volte un po' questa scintilla questa spontaneità e che minimizzano sotto categorie grande cappello di colore di genere musicale di un lavoro è una professione un'identità di genere cioè sarebbe una lista che non finisce più voi invece come definireste la vostra la vostra musica? beh cioè questa domanda può possono rispondere abbastanza tutti comunque cioè assolutamente comunque facciamo tutti assolutamente è una cosa che faccio così non ho neanche una cosa che dico ok adesso devo fare questo cioè metto la e la faccio non lo so mi capita anche di farla senza avere il tappeto musicale mi capita proprio cioè sento un po' anche una piccola esigenza tante volte di dire delle cose ma soprattutto tante cose non si tramutano tante cose che voglio dire a volte non si tramutano in musica e perché secondo me anche abbastanza giusto dopo trovare più mondi di espressione di sfogo e non basarsi solo su una cosa perché poi dopo non lo so come mi fossi anche forse diventa un po' limitativo secondo me poi ci sono varie opinioni ah ma infatti opinione personalissima io ti ho ascoltato per la prima volta stavo lavorando in un bar e ti ho ascoltato dal vivo che ti esibivi penso tre anni fa qua a Padova al parco della musica al parco della musica è vero ecco eravamo solo noi tre infatti sono rimasta estremamente sorpresa anche da perdonatemi passatemi i termini dal giro della batteria da tutte queste sonorità che hanno amplificato totalmente anche l'album cioè le canzoni che hai scritto recentemente che avete prodotto insieme e questo mi ha fatto un sacco piacere perché avete una presenza scenica davvero davvero credibile che prende forma grazie mille grazie mille e come forse il pubblico ecco magari rispetto ai poghi ci sono anche i tavoli anche quasi obbligatorio sedersi il concetto di concerto è totalmente stravolto quello per fortuna ci sono ci sono i fan da sbarra però è stato veramente coinvolgente cioè la vostra musica è arrivata e tra i vostri brani che insomma hanno costruito e letto tassello dopo tassello questo percorso ce n'è qualcuno in particolare che trovate diciamo attuale appunto con questa con questa situazione con questa atmosfera sociale qua devi rispondere tu Bubiz cioè tra i vanni che ci sono o tra quelli anche che non abbiamo cioè che abbiamo un po' lì messi la certo certo ok no secondo me ne abbiamo uno un po' ma Bubiz scrive tagliente tu sei una persona che scrive cose molto attuali sì 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 attivamente scrivo cose abbastanza attuali è una coincidenza di oggi è che noi oggi abbiamo portato sul palco una canzone in cui il ritornello viene citata Raffaella Carrà sì questa cosa è assurda ragazzi purtroppo è assurda l'abbiamo dedicato alla canzone è una coincidenza un po' strana e l'avete anche cambiata non sbaglio si l'ha cambiata oggi in Frista sì 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 ma l'hai cambiata il momento sì sì mi piace un po' fare questo noi non lo sapevamo ma cioè io se posso vorrei anche che qui i guaglioni parli un po' e che i microfoni sono poco io passo il mio microfono Leo per te cioè che cos'è la musica per te cioè cosa oddio io ti dico personalmente la musica cioè mi viene difficile credo che il sogno un po' di tutti sia tramutarla un po' in un lavoro però l'idea di tramutarla in un lavoro non so quanto mi piaccia cioè io adesso salgo sul palco come strumentista con loro e anche col mio gruppo con la gente con cui suono lo faccio comunque per sfogo personale per divertirmi cioè quando vado in sala prove vado per divertirmi non vado pensando mi cioè vado perché è il mio lavoro no non ne frega niente di quello cioè essenzialmente a detta mia se pensi di sfondare fare i soldi cose eccetera non vai da nessuna parte non lo fai se fai quello che ti piace quello sudi e ti sfoghi fai il delirio che vuoi fai il pazzo sul palco fai la presenza scenica fai amicizia conoscenze eccetera è già un traguardo giusto più che ambito cioè non credo ci sia altro in realtà vai 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 cico secondo me tipo si sente? sì 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 secondo me tipo suonare in una band in cui ognuno suona uno strumento cambia completamente come viene fuori il live per esempio quando suonavamo i tre loro due diciamo avevano degli strumenti lui la voce lui la chitarra io suonavo e mandavo diciamo i loop dal computer e suonare uno strumento vero è completamente un'altra cosa anche avere un batterista un chitarrista ognuno che fa il suo ruolo e il fatto che ci conosciamo tutti siamo tutti grandi amici è veramente cambia grazie sì sì è la combo e per te Tommy cosa è la musica? cioè che cosa è? va benissimo così io spero sempre che prendano queste pieghe è molto allo stesso modo come pensa lui anche io suonare l'idea cioè io suono da ho vent'anni penso che da quando ho cinque anni che in qualche modo suono tra la roba e l'altra e se tu infatti come dice lui si inizia a ragionarla suono per uno scopo che può essere economico o lavorativo quello che è non ha senso, io mi rendo conto con lui mi trovo su questa cosa quando sei sul palco stai vivendo un'esperienza entri in un'altra faccia cancelli tutto, hai solo quello hai il delirio ed è bello così ed è quello secondo me che ne vale la pena si inizia a vedere a soldi non funziona e ti dico anche in questa situazione è bella come cosa perché col genere che fanno loro inserire una batteria quindi stravolgere quella che può essere un bit vediamola così, che ha la batteria elettronica che metti in un computer e portarli in acustica e riuscire a rendere la stessa cosa è una figata se funziona è una cosa che consigliereste a un qualcuno che si vuole che sente la musica e che vuole partire e cominciare a a praticare concretamente poi la musica ed è senza strumenti da zero cosa consigliereste voi? Costanza sicuramente la cosiddetta fotta la fotta la cazzima sì, non mollare ma cioè in realtà tanti secondo me che non scoraggiarsi perché l'impegno della vita se ti scoraggi non lo volevi veramente se ti scoraggi perdi un po' tutto poi dipende anche per cosa lo fai cioè se suoni per passione per stare in cameretta tua e fare due canzonine cioè così suonare la canzone alla mamma o cosa non lo so poi se vai fuori sicuramente come hanno detto loro io per esempio sono autodidatta in parte come Nico però effettivamente quando poi devi portare la cosa a uno step successivo serve anche quel plug per sì a meno che sì esatto esatto anche la tecnica poi appunto come come la tua esperienza cioè prova che se integrata la tecnica poi si hanno dei risultati un spettro di possibilità diverse sì diciamo che magari tu sei anche portato da bambino c'è un po' magari il senso del ritmo dell'intonazione quello che vuoi però se ti fidi troppo delle tue competenze naturali diciamo rimani lì è ovvio che studiare ti porta a un livello successivo poi dipende quello che ti interessa ovviamente però per esempio a me come a loro che hanno fatto stanno facendo il percorso del conservatorio evidentemente interessa portare la musica a un livello più alto a un livello di competenze che poi cioè la musica studiare musica io me ne sto rendendo conto facendo il conservatorio non è come studiare una qualsiasi altra in una qualsiasi università diciamo è una cosa che tu devi proprio gasarti nelle varie materie e interessarti anche per conto tu al di là del devo fare l'esame perché è una cosa molto diciamo soggettiva quali sono i vostri piani per il futuro quali le prossime date se ne avete in programma allora guarda ne abbiamo una il 30 luglio a Bassano del Grappa ai Giardini Parolini e poi basta poi andiamo in Puglia in vacanza però esatto andiamo in vacanza ok un saluto in Bassanese notte buonanotte ciao ciao buonanotte a tutti concludiamo così questa intervista loro sono Luca and Basabello Clinic e niente questa è stata l'intervista post concerto buona serata a tutti ciao ciao a presto ciao baba a presto ciao ciao